Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV, avete visto e sentito i titoli del nostro sommario, c'è un'ampia pagina dedicata alla cronaca, ci arriveremo fra qualche istante, intanto la nostra apertura dedicata alla visita del Presidente della Repubblica Mattarella a Villa Castelpulcip in occasione del decennale della Scuola Superiore di Magistratura. Mattarella ha detto che la riforma del CSM non è più rinviabile. L'apertura. E' arrivato questa mattina a Castelpulci a Scandicci il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia per il decennale della Scuola Superiore della Magistratura. Un saluto alle autorità e un invito a procedere con rigore. Le vicende degli ultimi tempi, dice, non devono indebolire il sistema giustizia. Alla scuola compete l'impulso, alla consapevolezza dell'etica, la sua indipendenza è irrinunciabile. E' un terreno dove non sono ammesse incertezze. La riforma del CSM non è più rinviabile. Presente anche il Ministro della Giustizia Marta Cartavia e il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Davide Ermini. La formazione della magistratura è un bene pubblico, ha detto Ermini. La scuola è il luogo di confronto e di esperienza, ma la sfida più impegnativa per la magistratura è essere credibile agli occhi dei cittadini. In successione il Ministro che guarda il rinnovamento. Il diritto vive nella società che è in movimento. Lo abbiamo visto durante la pandemia. Oggi il tema principale è quello delle riforme della giustizia per il Paese. Il contesto richiede il potenziamento dei singoli uffici, dell'informatica, anche per ridurre i tempi dei processi e un incremento ai progetti formativi. Oltre al Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni, rappresenta anche il Sindaco di Firenze Dario Nardella. Certamente c'è un grande affetto verso il Presidente Mattarella e sono anche fiero del rapporto speciale con la città di Firenze. Credo che questa sia la decima volta o giù di lì che visita la nostra città, anche qui a Scandicci, l'area metropolitana. E poi aspettiamo il Presidente Mattarella nel capoluogo a Firenze il 21 di dicembre quando inaugureremo il nuovo auditorium sinfonico da 1200 posti con il quale celebriamo i 150 anni dell'Unità d'Italia. Quindi credo che il rapporto tra Presidente Mattarella e Firenze sia un rapporto speciale, indissolubile e rimarrà sempre perché ciò che conta è la persona, più della carica. Questa dunque è la nostra apertura, vi dicevo apriamo subito la cronaca perché c'è stato un terribile fatto di sangue a metà pomeriggio, intorno alle 15.30 a Comeana, frazione di Prato, dove un uomo è stato ucciso praticamente sulla porta di casa a colpi di pistola. Sono in corso ancora le indagini dei carabinieri e noi siamo collegati proprio con Comeana, dove c'è la nostra Nadia Tarantino, che vedo. Buonasera Nadia. Buonasera, buonasera. Io sono all'imbocco di via Boccaccio, che è una strada senza sfondo a Comeana. Siamo nel comune di Carmignano, qui intorno alle 15.30, 15.45. Un uomo che abita in questa strada è stato ucciso a colpi di pistola. Un uomo di 38 anni, originario di Napoli, un ex imprenditore con affari nelle palestre, in particolare in una palestra di poggio a Caiano, che però avrebbe lasciato qualche tempo fa per dedicarsi in modo saltuario a lavori all'interno di locali, parliamo di bar. Non si sa bene che cosa è successo oggi in questa strada. Secondo quello che hanno riferito, alcuni testimoni che sono già stati ascoltati dai carabinieri, si sarebbero avvicinati alla casa di questa persona due uomini. Ci sarebbe stata una discussione, poi forse uno o due colpi di pistola che avrebbero attinto la vittima all'inguine. Pare che i primi soccorsi siano arrivati da due persone che abitano in questa strada, due passanti che si sarebbero fermati, appunto, avrebbero immediatamente chiamato i soccorsi. e sembra che la vittima abbia fatto in tempo a dire mi hanno sparato. Non è chiaro se poi abbia aggiunto qualche altra informazione. Di certo c'è che le indagini sono indirizzate su una strada in particolare. I carabinieri stanno lavorando in questo momento. Non riusciamo a mostrarvi le immagini della strada perché è una strada in questo momento bloccata. Nessuno può passare tranne i residenti. L'abitazione è illuminata dalle fotocellule dei vigili del fuoco che appunto stanno lavorando insieme ai carabinieri sulla scena del crimine. Il sopralluogo è ancora in corso. Sul posto ci sono i carabinieri. c'è anche il sostituto procuratore di turno che appunto sta dirigendo questa indagine in questa primissima fase. Bene Nadia, grazie. Hai domande, Vittorio? In studio. Naturalmente vi diamo appuntamento anche a Notizie di Prato e anche alle altre edizioni del giornale per gli aggiornamenti. Era Nadia Tarantino in diretta con noi da Comeana. Adesso proseguiamo con il giornale. Vi diciamo che c'è la grande attesa per le decisioni del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda il Green Pass, in particolare il Super Green Pass. Via Libera del Governo varrà in zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio. Sarà una sorta di regolamentazione molto modulata, con molti criteri, con molte particolarità. Necessario sarà il tampone per i mezzi pubblici. Queste le notizie relative al Super Green Pass. Adesso parliamo però con il prossimo servizio di una notizia abbastanza vicina che è correlata alla Covid-19 perché si parla di turismo, un turismo che cerca di rialzare la testa dopo la pandemia. Il 2022 anche grazie al fatto che nel tempo i livelli di vaccinazione saliranno ovunque, anche nel resto d'Europa. Pertanto credo che il 2022 confermerà la crescita degli arrivi anche da provenienze più lontane. In Toscana nel 2022 si tornerà ai livelli del 2019, almeno nei macronumeri, prevede l'assessore al turismo. Certo non in tutte le zone sarà lo stesso. A soffrire di più saranno le città d'arte che già ora sono alle prese con l'incognita Natale. Se il ponte di Ogni Santi, spiega Federalberghi, ha fatto registrare una ripresa, le prossime feste si decideranno all'ultimo minuto. C'è molta paura di prenotare, si rimanda tutto molto all'ultimo minuto. È probabile che vi possa essere una convergenza sulle città d'arte perché la montagna in questo momento potrebbe essere maggiormente esposta a questa situazione del rischio della chiusura degli impianti che noi però riteniamo, per quanto ci riguarda, da fonti nazionali che dovrebbe assolutamente essere scongiurata. Firenze, come altre città d'arte, soffre di una perdita di strutture ricettive che non riapriranno dopo la pandemia, anche se il problema riguarda soprattutto le attività medio-piccole, magari a conduzione familiare. Sulle altre, anche se non c'è una svendita, il pericolo potrebbe essere quello speculativo di grandi gruppi internazionali, gli unici a potersi permettere l'acquisto e gli alti affitti. Sicuramente qualche segnale positivo c'è, ma si rischia anche un ingresso di capitali stranieri che acquisiscano strutture nelle nostre città più iconiche, penso a Firenze, penso a Pisa, piuttosto che a Siena. La svendita esiste invece nelle città termali con perdita di valore degli immobili, mentre la costa assiste a un fenomeno di compravendita più regolare. Lì insomma c'è chi vende, ma anche chi compra. Restiamo a occuparci di turismo con una notizia che riguarda una cosa a dir poco curiosa, che vediamo insieme. Aiutami Obi-Wan Kenobi, sei la mia unica speranza. Si dice hologramma e i più anziani pensano subito al messaggio della principessa Leila ad Obi-Wan, ma la tecnologia che consente l'illusione di una presenza senza essere presenti davvero è già utilizzata in vari campi, dalla moda allo spettacolo. All'inizio come elemento scenografico, sempre di più come illusione assolutamente realistica di una presenza vera. L'azienda pisana Alchedo ha sviluppato l'olopresenza per il turismo congressuale presentandola alla Borsa del Turismo Online in corso a Firenze. La persona che vedete sulla sinistra è la presentatrice in carne e ossa nel Salone dei Cinquecento, quella a destra un ologramma. Difficile vedere la differenza e per questo effetto non sono necessari supporti visivi, occhiali o visori. La presenza di un ologramma dà una fisicità diversa rispetto allo schermo, quindi ti dà la possibilità di una interazione, possiamo dire, più umana con la persona che invece è lontana. In questo caso vi abbiamo dimostrato come in un convegno è possibile far arrivare una persona da lontano. Gli utilizzi sono chiaramente molteplici, nel turismo ancora di più. E mentre il sindaco di Firenze Dario Nardella valuta l'emissione di una nuova ordinanza per l'obbligo di mascherine all'aperto prima di Natale, Gianni però frena su questa ipotesi. Sentiamo. Sto valutando in queste ore insieme agli esperti se ci siano le condizioni per firmare un'ordinanza per rendere obbligatorie le mascherine all'aperto. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, nonostante i dati da contagi da Covid ci vedano in zona bianca. Una valutazione che verrà fatta insieme al presidente della regione toscana Eugenio Gianni che pensa al capoluogo toscano e a tutti quei comuni che sono strutturati in modo diverso, come i borghi che niente hanno a che vedere con Firenze, sia a livello strutturale che del numero di presenze. Posso capire Nardella che si vede il sabato e la domenica l'assembramento nel centro storico di Firenze di tante persone, ma la Toscana sono 273 comuni. Vista da Firenze probabilmente se Nardella fa queste considerazioni significa che è giusto e comprensibile, ma vista dalla regione, io prima di arrivare a imporre le mascherine all'aperto, considerando i tanti comuni di bassa densità abitativa, considerando i paesi, considerando i borghi, ma ancora non lo ritengo necessario. L'indirizzo del governo è quello di stringere su coloro che hanno scelto di non vaccinarsi per evitare ciò che accade in Europa e che in questo momento lascia l'Italia in condizioni migliori. In questo la Toscana anche stamattina è sotto i 400 contagiati, quindi significa che il vaccino regge. I contagiati sono portati da quella fascia di persone che non si vaccinano e quindi è inevitabile, a mio giudizio, che se dobbiamo assumere le misure, perché comunque dobbiamo tenere la guardia alta, queste si rivolgono verso chi non è vaccinato. Giriamo pagina, parliamo di violenza alle donne. Le vittime sono in maggioranza tra i 31 e i 44 anni. La maggior parte delle donne vittime di violenza ha un'età compresa tra i 31 e i 44 anni, e seguono quelle di età compresa tra i 18 e i 30. La percentuale di vittime minorenni si attesta all'8%. Sono i dati emersi dal report della Direzione Centrale della Polizia Criminale, pubblicato dal Viminale. Per quanto riguarda il profilo degli autori dei reati, la maggior parte ha un'età compresa tra i 31 e i 44 anni, seguono quelli della fascia tra i 45 e i 54 anni e quelli tra i 18 e i 30. I minorenni sono il 2%, sono italiani nel 73% dei casi. Aumenta anche il reato di costruzione o induzione a matrimonio. Tra l'altro sono aumentate del 10% le violazioni dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e dei divieti di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In forte crescita, nei primi 10 mesi dell'anno, i reati di deformazione dell'aspetto della persona con lesioni permanenti al viso. In totale, dall'entrata in vigore della legge sul Codice Rosso nel 2019, sono stati 143 i delitti di questo tipo. Le vittime, tutte donne, sono il 22%. Gli autori sono nel 92% dei casi di sesso maschile. In aumento rilevante anche i casi di revenge porn, cioè la diffusione senza consenso di immagini o video intimi. Il 45% in più rispetto ai 759 casi dello scorso anno. E sempre su questo argomento, parte proprio dalla Toscana, il progetto Panchine Rosse di Conad Nord-Ovest. La cooperativa che ha sede a Pistoia ha donato 250 panchine. E dalla Toscana il progetto Panchine Rosse di Conad Nord-Ovest per dire no alla violenza di genere. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Conad Nord-Ovest ha donato complessivamente oltre 250 panchine rosse per ribadire in modo concreto la propria vicinanza alla comunità. L'iniziativa ha preso il via oggi a Pistoia, città in cui si trova la sede storica della cooperativa. Il progetto si estende su tutte le regioni di competenza di Conad Nord-Ovest, Toscana, Emilia, Liguria, Lazio, Piemonte, Valle d'Aosta e Sardegna. La violenza sulle donne è un crimine vergognoso, è un crimine che va combattuto e va combattuto più che altro creando informazione, cultura, invitando quindi tutti quanti, in modo particolare le istituzioni ma anche la famiglia, a lavorare in questa direzione. Noi come Conad vogliamo essere dalla parte sempre della comunità e in questa battaglia ci vogliamo essere. Sì, è una bellissima iniziativa, fortemente simbolica e fa piacere che venga appunto da una grande azienda, dal mondo privato, che dimostra una sensibilità che va oltre quella che normalmente devono avere, che è economica, di carattere economica. Quindi portare all'interno dell'azienda questo tipo di battaglia, questo simbolo, questa lotta dimostra che la cultura della non violenza, la cultura del rispetto della donna si sta diffondendo ormai in tutta la società, anche se non bisogna mai abbassare la guardia. È favorevole il parere della sovrintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio, seppur con alcune prescrizioni, per il progetto a Firenze di una ruota panoramica e una pista di patinaggio in piazza Fallani alla Fortezza d'Abbasso durante il periodo natalizio. Lo conferma il Palazzo Vecchio, il periodo di allestimento sarà da inizio dicembre alla metà del prossimo gennaio 2022. Torniamo adesso alla cronaca perché c'è stato un altro fatto terribile, questa volta a Scandicci alle porte di Firenze. Due coniugi novantenni volano dal balcone, si indaga per omicidio, suicidio. La donna era gravemente malata da tempo. Sono ancora da accertare i motivi che hanno portato alla morte di una coppia, marito e moglie, che ieri sera è volata giù dal terrazzo del proprio appartamento in via Edmondo dei Amici, Sascandicci. Una caduta di alcuni metri dal terzo piano di questo stabile. Gli investigatori hanno trovato un biglietto, forse rivolto ai due figli. I coniugi più che novantenni vivevano da soli. Non si tralascia alcuna pista, neppure quella dell'omicidio e suicidio. Una vicina di casa ci racconta che erano persone perbene, nel quartiere li conoscevano tutti. La donna aveva dei problemi di salute e chi li ha conosciuti ci dice che in previsione ci sarebbe stato un ricovero. Sono stato avvertito stamattina dalle autorità locali di polizia. Certamente non abbiamo elementi, io non so neanche esattamente chi siano, però certamente la cosa ci colpisce, soprattutto per l'età anziana e per il fatto che si decida in un particolare momento della propria vita anche di abbandonarla così. Qualcosa ci fa riflettere, ci lascia sgomenti, non ne sappiamo le motivazioni. Cerchiamo anche di capire il contesto entro il quale questo bruttissimo episodio si è verificato. Torniamo adesso a Prato. Ricordate la vicenda delle guardie accusate di omicidio e i motivi delle assoluzioni. Ce le spiega nel prossimo servizio. Non furono le botte, ma le conseguenze di una caduta accidentale a uccidere il sessantenne che la sera del 4 ottobre 2017 fu trovato ferito accanto alla porta del pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano dove si era presentato chiedendo di essere visitato. Ne ha convinto il giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Prato, Francesco Pallini, che in 155 pagine ha motivato l'assoluzione delle due guardie giurate accusate dal pubblico ministero Valentina Cosci di omicidio preterintenzionale. A sette mesi dal processo con rito abbreviato, a più di quattro anni dal fatto e a più di tre dal decesso, l'uomo che rimase paralizzato morì a ottobre 2018, è stata depositata la sentenza che non solo smonta le indagini, ma le critica apertamente. Nessun elemento obiettivo che attesti l'aggressione è stato cercato subito dopo o acquisito, scrive il giudice. Mancanza di dati obiettivi di riscontro nel rispetto dei principi processuali in tema di adempimento dell'onere della prova in capo alla pubblica accusa. Anzi, i dati appaiono pienamente coerenti e conformi con l'assolutamente verosimile, compatibile e coerente ricostruzione della caduta accidentale. Il giudice ha ancorato ogni tassello della sua convinzione alle tre perizie medico-legali che hanno fornito altrettante chiavi di lettura, alle testimonianze raccolte dalla polizia, alle dichiarazioni rilasciate dalla vittima e al comportamento degli imputati che hanno sempre respinto ogni addebito senza contraddizioni. Il risultato è un insieme di lunghe e articolate riflessioni che restituisce una ricostruzione alternativa a quella della procura. Il giudice ha recepito intere parti della tesi difensiva, soffermandosi per esempio sull'esito dell'incidente probatorio durante il quale la vittima raccontò di essere stata picchiata da una guardia alla presenza di altre 10 o 12, affermazione smentita da tutto e da tutti. Molto è dedicato alla super testimone, la dottoressa che soccorse l'uomo dopo le richieste di aiuto arrivate proprio dalle due guardie. In un primo verbale disse che il paziente non le aveva riferito nulla in merito all'accaduto. Poco dopo disse che il paziente le aveva confidato di essere stato picchiato dalle guardie. Il giudice non solo insiste sull'assenza dei segni del pestaggio sul corpo della vittima, ma pone dubbi sulla testimonianza della dottoressa. In congruenza di tale portata è rilevanza che non può che minare gravemente, scrive l'attendibilità del racconto. Le due guardie sperano ora di tornare in possesso del porto d'armi, requisito indispensabile per ricominciare a lavorare. Adesso una bella storia che ci giunge da Pistoia con Patrizio Ceccarelli. Un'anziana signora di 101 anni è stata operata al Femore, sta bene, ed è stata appunto operata al San Jacopo di Pistoia. A 101 anni una paziente dell'ospedale San Jacopo di Pistoia è stata operata a un femore e appena ha aperto gli occhi, risvegliandosi dall'anestesia, ha ringraziato i sanitari. L'intervento ha avuto un esito positivo, riferisce l'Ansl, ed ha riguardato una frattura del femore dove era presente una protesi di Anca. L'intervento ha richiesto l'impianto di una placca per permettere alla paziente di tornare nuovamente a camminare. Ormai sono sempre più frequenti le fratture di femore degli anziani ed in particolare quelle che accadono su impianti protesici su cui interveniamo chirurgicamente, permettendo un rapido recupero post-operatorio e consentendo anche alle persone più fragili di mantenere la loro qualità di vita, ha spiegato Luca Turelli, direttore della struttura di ortopedia. La paziente, operata dai chirurghi Valerio Valentino e Nicola Fantacci, è stata dimessa. Durante il ricovero sono intervenuti fisioterapisti per aiutarla nella riabilitazione. Un altro record per i nostri ortopedici, fa sapere l'Ansl, le tecniche operatorie adottate ad oggi sono tali da permettere anche ai pazienti più anziani un recupero precoce dopo l'intervento e sono notevoli anche le abilità dei nostri sanitari nel trattare persone così estremamente fragili. Restiamo però nel capoluogo pistoiese, parliamo di una hub per la chirurgia del fegato. L'ospedale San Jacopo di Pistoia diventa centro di eccellenza chirurgica a livello aziendale per curare i pazienti affetti dalle malattie oncologiche del fegato e in particolare in presenza di lesioni metastatiche. Il centro è stato individuato dal Dipartimento delle Specialistiche Chirurgiche diretto dal dottor Stefano Michelagnoli attraverso l'applicazione del nuovo modello organizzativo AB e SPOC con il quale è previsto che il paziente sia centralizzato nell'ospedale di riferimento chirurgico AB per poi tornare una volta trattato in quello di provenienza SPOC. Quanto alle dotazioni tecnologiche, le sale operatorie dell'ospedale di Pistoia sono attrezzate con le più moderne strumentazioni. Referente del centro AB per la chirurgia del fegato a livello aziendale è il dottor Massimo Fedi. Il dottor Fedi insieme all'equip dedicata ha eseguito numerosi interventi sul fegato garantendo ai pazienti migliori risultati anche e soprattutto in termini di sopravvivenza ed è ormai appurato che la concentrazione degli interventi di alta complessità in un unico presidio porti vantaggi anche nella gestione delle eventuali complicanze afferma il dottor Sandro Giannessi, direttore della chirurgia generale del Saiacopo e dell'area aziendale. Noi siamo giunti in conclusione ma prima dobbiamo ricordarvi la serata di Toscana TV che si apre alle 21.15 con il film Edinburgh City a seguire alle ore 23 Telegram a cura di Alessio Poggioni. Bene, è tutto per questa edizione, grazie di essere stati con noi, arrivederci e buon proseguimento.